Le Smart City è un operatore telefonico come Vodafone impegnato su molti versanti. Ne parliamo con Ferruccio Borsani, direttore dell'area business di Vodafone. Cosa state facendo in questo momento sul versante delle Smart City e cosa prevedete nella vostra attività da qui a breve? Allora, diciamo che noi siamo molto interessati ovviamente al tema della Smart City e stiamo proponendo un'offerta, un'offerta integrata che va a cogliere diverse necessità nell'ambito delle Smart City, necessità che vanno dalla Smart Mobility al Smart Government a tutto il tema delle Smart Grid, eccetera. Quindi molte, molte ambiti di applicazione. Quello che noi stiamo cercando di portare è anche un ecosistema di partner che lavora con noi quindi noi abbiamo, diciamo, le piattaforme, le infrastrutture abilitanti quindi la possibilità di fornire con la nostra rete la connettività, la velocità, la banda larga sia fissa che ovviamente mobile e su questo è chiaro che noi chiediamo con i nostri partner di costruire delle piattaforme, delle applicazioni e poi la gestione dei servizi per portare evidentemente a tutti i cittadini e quindi anche ai nostri clienti questo tipo di servizi Smart che non sono solo a questo punto quelli che noi tradizionalmente portiamo ai nostri clienti privati e ai nostri clienti e aziende ma che vanno anche ad abbracciare i servizi della pubblica amministrazione. Voi siete un grande operatore mobile mi verrebbe voglia di chiedere quanto pesa la mobilità nell'idea di Smart City che tutti in qualche modo abbiamo in testa? Io penso moltissimo, moltissimo perché è la parte preponderante. È chiaro che sempre di più lo sviluppo delle reti soprattutto le reti mobili, la tecnologia, gli smartphone permettono di smaterializzare il luogo fisico, il luogo fisico di lavoro il luogo fisico di incontro per le persone e ovviamente di cambiare decisamente quello che è il rapporto sociale, il rapporto di business quindi la mobilità è un elemento fondamentale noi stiamo investendo tantissimo stiamo investendo tantissimo sulla nostra rete per noi è sempre stato un punto di riferimento e come ben sapete anche su tutto il mondo del 4G abbiamo acquistato le frequenze stiamo investendo sulla rete tra poco saremo anche noi commercialmente presenti e quindi stiamo veramente creando con la nostra rete un ulteriore spazio per i nostri clienti, la comunità, le imprese di lavorare e di vivere in un modo sempre più innovativo sempre più semplice, facile, fruibile in termini di contenuti, relazioni in qualsiasi luogo Un'impresa deve andare su modelli replicabili per ovvie ragioni ma vi è capitato di trovare soluzioni ad hoc su determinati territori? Sì, abbiamo chiaramente sviluppato delle soluzioni ad hoc sulla base ovviamente delle necessità territoriali delle amministrazioni pubbliche che ce l'hanno chiesto è chiaro che sulla nostra infrastruttura è relativamente semplice poi diciamo moltiplicare questo modello dove si può fare una customizzazione finale sulle esigenze del singolo comune, della singola regione della singola pubblica amministrazione però è chiaro che l'infrastruttura di base è un valore molto molto importante quindi noi siamo molto flessibili nell'andare a customizzare le soluzioni ovviamente appoggiandoci su delle infrastrutture nostre chiaramente molto molto rilevanti Quanto pesa la carenza di una infrastruttura di rete di nuova generazione sul nostro paese? Beh è chiaro che questo è un tema molto importante sappiamo benissimo che sta anche sull'agenda del governo e ci auguriamo tutti che sia un elemento di grande sensibilità il governo lo sta spingendo e quindi noi ci crediamo noi stiamo investendo come operatore evidentemente anche su questi temi è chiaro che sempre di più la rete mobile dà delle opportunità con una maggiore velocità, maggiore capacità e quindi con il 4G e le sue evoluzioni darà sempre di più spazio a in qualche modo compensare quelle che sono oggi alcune mancanze come lei ha detto da parte della banda larga fissa è chiaro che dobbiamo portare avanti tutti e due gli investimenti affinché ci sia disponibilità di banda fissa e larga a seconda dei bisogni delle imprese e dei cittadini Il mondo del futuro sarà smart nelle nostre cities? Io mi auguro di sì, mi auguro che su questo ci sia un ruolo importante della pubblica amministrazione che possa, come si diceva anche nel dibattito appena concluso creare una cabina di regia per essere veloci nella parte di implementazione e molto concreti soprattutto nell'erogazione dei servizi ai cittadini Grazie a Ferruccio Borsani, direttore area business di Vodafone Grazie a tutti